La potatura è importante ma quella cosa che è più importante è anche come vengono potate le piante quindi evitiamo di fare tagli trasversali tagli che possono creare delle lacerazioni sul nostro tronco ma andremo a creare dei tagli netti precisi puliti tagli che andranno poi a cicatrizzarsi in modo più veloce magari utilizzando anche un prodotto cicatrizzante per una corretta portatura ci serve anche una buona attrezzatura che ci permette di fare molta meno fatica quindi quello che possiamo utilizzare è una forbice come questa qua forbice con un moltiplicatore essenzialmente c'è dentro un amor una molla che mi aiuta a fare meno sforzo forbice a batteria forbice con taglio assistito quindi nel momento in cui dobbiamo affrontare il nostro taglio questo ci permetterà di tagliare senza far assolutamente fatica questa forbice a differenza di quella precedente è completamente automatica quindi l'unica cosa da fare è schiacciare il grilletto e lei in automatico ci permetterà di fare tagli come questi o magari tagli come questi se invece siamo in presenza di rami un po più importanti possiamo andare a utilizzare un seghetto un seghetto leggero compatto e ricaricabile